Ecco la giunta del Tambellini bis 5 conferme 4 novità, ecco la squadra del secondo mandato del sindaco di Lucca. Taglia le classi al liceo Carducci di Viareggio, la denuncia della direzione scolastica saremo costretti a sezioni da 32 alunni. Fornaci in canto sbarca in tv, tornano anche quest'anno sulla nostra emittente le audizioni del festival in onda ogni domenica alle ore 21. Lo sport e il calcio nobile alla Provercelli slitta Ciro Capuano, il 21enne portiere passa ai piemontesi, il direttore sportivo Bedio prenderà un giovane da affiancare a di Masi, la prossima settimana il rinnovo dell'esperto difensore. Ciclismo anticipazioni sul Giro di Toscana si correrà dall'8 al 10 settembre la 22esima edizione della corsa voluta da patron Brunello Fanini. Ben trovati per questa nuova edizione del TG Noi in apertura la politica, dunque il sindaco Alessandro Tambellini che ha presentato la nuova giunta, la giunta del Tambellini Bis, ovviamente il secondo mandato del sindaco del centro-sinistra. Vediamo le novità e le conferme. Cinque conferme e quattro novità. Cinque elementi in forza al PD, due di Lucca Civica, uno di sinistra con Tambellini e anche un manager. Ecco la giunta del secondo mandato Tambellini presentata alla stampa e alla città nella sala degli specchi di Palazzo Orzetti. Una squadra sotto il segno della continuità ma anche delle novità alla luce del recente risultato elettorale. Partiamo dalle conferme. Giovanni Lemucchi, Lucca Civica, sarà vice sindaco con delega al bilancio, controllo di gestione, tributi, società partecipate. Serena Mammini, PD, avrà le delega urbanistica, edilizia privata e progetti ex pius. Celestino Marchini, Lucca Civica, delega ai lavori pubblici, piano di regolazione del traffico, sicurezza stradale e manutenzione del verde pubblico. Francesco Raspini, PD, assessore ad ambiente, protezione civile, sicurezza, organizzazione della struttura del comune. Ilaria Vietina, PD, politiche formative, politiche di genere e continuità della memoria storica. Nuovi nomi, Gabriele Bove, del PD, nominato assessore ai patti di confine, mobilità, trasporto pubblico locale, arredo e decoro urbano, patrimonio, processi di partecipazione e servizi al cittadino, oltre all'innovazione. Lucia Del Chiaro, sinistra con Tambellini, assente alla presentazione, avrà le deleghe alle politiche sociali, interventi su vecchie e nuove povertà, politiche della casa, politiche giovanili, cooperazione internazionale. Valentina Mercanti, del PD, assessore ad attività produttive, sviluppo economico e politica europee. L'ex amministratore del Giglio, Stefano Ragghianti, ha ottenuto le deleghe a cultura, turismo e il nuovo assessorato Muramare, oltre a sport, edilizia sportiva e gemellaggi. Abbiamo chiesto al sindaco di descrivere la nuova squadra con un aggettivo. Ce ne vogliono almeno tre. È una giunta che va in continuità con ciò che abbiamo fatto in precedenza. È una giunta che ha caratteri di novità per molti versi, pur nella continuità, e sarà una giunta attenta alle esigenze di tutto il territorio, quindi in particolare col territorio che è oltre la circombalazione, oltre il centro storico. Il sindaco ha nominato anche tre consiglieri delegati. Roberto Guidotti si occuperà di lavoro, Cristina Petretti di Sanità e Francesco Battistini di Affari Animali. Sarà il sindaco in prima persona a dedicare particolare attenzione alle questioni che riguardano la riqualificazione del campo di Marte e gli assiviari. Come amministratore unico del Teatro del Giglio, il sindaco nominerà a breve l'avvocato Giovanni Del Carlo. Tante reazioni, commenti politici a queste nomine. Il senatore del PD Andrea Marcucci dice è una bella squadra di governo, ora tutto è lavoro per Lucca, basta con i chiacchiericci e le polemiche meschine delle ultime settimane. L'onorevole del PD Raffaella Mariani dice sono certa che la squadra guidata dal sindaco sarà capace di governare, coniugando spirito di servizio, competenza e lungimiranza. Interviene anche Bruzzesi che dice sono molto soddisfatto delle scelte del sindaco Tambellini. Ha costruito una squadra che tiene insieme esperienze e novità e sarà subito in grado di portare grandi risultati per i lucchesi. Questo il commento del commissario del PD di Lucca. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Infortunio sul lavoro a metà mattinata nell'azienda Ricomini di Pietrasanta. L'operaio è stato colpito a una gamba da una lastra di marmo caduta accidentalmente durante la lavorazione. L'uomo è stato portato in ospedale con la frattura di una caviglia. Non è in pericolo di vita. E rimaniamo in Versiglia per andare a Viereggio dove c'è la denuncia da parte del dirigente scolastico e dei genitori per i tagli decisi dal provveditorato alle prime classi del liceo Carducci. Mancherà un tassello al mosaico delle scuole superiori vieregine che tra polo liceale e istituti offre un'ampia scelta. Il provveditorato ha stabilito che il liceo Carducci avrà solo quattro classi di indirizzo linguistico a fronte di 127 iscritti. Il che significa classi pollaio come ai vecchi tempi di oltre 30 studenti ciascuna. Il liceo classico con indirizzo linguistico è in continua crescita, spiega il preside Mario Regali e la presa di posizione del provveditorato agli studi è inaccettabile. Ed è per questo che giovedì pomeriggio il dirigente scolastico ha convocato i genitori dei ragazzi iscritti ai Carducci per informarli della realtà. Sono state originalmente date cinque classi. Il 7 giugno è arrivata la comunicazione, ve arrangiate con quattro classi perché dobbiamo tagliare. Abbiamo chiesto per via ufficiali col consiglio di istituto, abbiamo mandato lettere, alla fine una risposta in qualche modo è arrivata per via non ufficiali, cioè per mail personale, al professor Delbianco, i sindacati si sono interessati, però fatto sta che noi continuiamo ad avere quattro classi, quindi dovremmo fare classi di 32. Qui a noi ci tolgono cinque docenti, ci tolgono i docenti del potenziamento sia per latino e greco, sia per matematica e fisica, che avevano lavorato egreciamente, ci lasciano l'insegnante di disegno e storia dell'arte, che è un'ottima persona, ma disegno e storia dell'arte in questa scuola non si insegna, quindi non è materia curricolare. Continuerò a chiedere fino a che posso le cinque classi e poi vedremo come fare, come attrezzarsi con 32. Toccante cerimonia a Castelvecchio Pascoli per l'intitolazione a Guelfo Marcucci del parco giochi restaurato ad opera di misericordia e donatori di sangue. L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito della festa portata avanti dai volontari della misericordia e dei donatori di sangue di Castelvecchio Pascoli, in programma fino a domenica all'ex scuola elementare del paese. C'erano tutte le persone che hanno conosciuto e amato l'imprenditore di Castelvecchio Pascoli, la famiglia, le istituzioni della Valle del Serchio, un ampio servizio ve lo proporremo nelle prossime edizioni del TG Noi. Questa è la targa appunto con l'intitolazione Parco Guelfo Marcucci. Adesso a Capannori, al Museo Atena, apre una nuova sezione dedicata all'epigrafia. Ce ne parla Guido Casotti. Il Museo Atena di Capannori si arricchisce di nuovi e importanti documenti storici. Venerdì pomeriggio è stata inaugurata la sezione dedicata all'epigrafia latina del territorio. L'inaugurazione si inserisce nella cornice delle notti dell'archeologia patrocinate dalla regione toscana. Tra gli altri è intervenuto anche il vice sindaco con delega alla cultura Silvia Madei. L'esposizione, questo museo che per noi, per l'amministrazione comunale, è veramente un fiore all'occhiello. Quindi io consiglio e come al solito invito tutti quanti a venire a visitarla, a vedere da vicino questa bellezza. E poi ci sono anche altre stelle o anche altre epigrafi che sono qui nella sezione e che quindi andranno a far sì che il museo diventi veramente un punto focale, un punto importante di conservazione insieme al reperto ligno che abbiamo già anche nell'altra sala qui accanto e anche tutte le opere e tutti i reperti che abbiamo anche nelle sale superiori del museo andranno quindi a arricchire questo percorso e far sì che le persone possano trovare insomma tutti quanti un interesse particolare per la nostra storia passata. L'esposizione è stata realizzata in collaborazione con il gruppo archeologico capannorese e suggella l'acquisizione al museo di uno dei più importanti documenti epigrafici del territorio lucchese, la cosiddetta Stele dei Laroni, rinvenuta nel 1954 a Castelvecchio di Compito, trasferita a Porcari nel 2004 nel quadro del progetto delle Cento Fattorie e finalmente trasferita nell'aprile del 2017 a Capannori. Si tratta complessivamente di cinque documenti epigrafici tutti riferibili all'ambito funerario, i cui testi incisi nella pietra parlano di altrettante storie di persone e di famiglie realmente esistite che ci restituiscono uno spaccato della società romana della Piana di Lucca del I secolo d.C. Cerimonia ufficiale di apertura del centro ricreativo La Formica alla sede della Arci Confraternita della Misericordia Monte Carlo, alla presenza del sindaco Fantozzi, del governatore Mario Davini con la benedizione di Monsignor Don Lorenzo Battiol. Pensato in particolare per gli anziani, il centro ricreativo organizza nella sede della Misericordia in località Fornace attività ricreative diverse come giocare a carte a tombola, la lettura di libri e giornali, un po' di musica, il corso di cucina, di giardinaggio e altre cose ancora. Due volte alla settimana il fisioterapista si prende cura del benessere fisico degli anziani. Insomma davvero un centro importante e vedete le immagini di questa festa. Ora parliamo di musica perché da domenica su Noi TV in onda le audizioni di Fornaci in Canto. Quattro serate sotto il segno della musica torna anche quest'anno sulla nostra emittente Fornaci in Canto, il festival giunto alla nona edizione in programma dal 27 al 29 luglio a Fornaci di Barga. Per il terzo anno consecutivo una parte delle audizioni si è svolta nei nostri studi di fronte alle nostre telecamere. E così da questa settimana fino a fine luglio la musica sarà protagonista su Noi TV e Rete Versilia News. Valutati dalla qualificatissima giuria composta dal direttore artistico Massimo Salotti, la direttrice di produzione Lucia Morelli e il maestro Mauro Fabri, gli aspiranti finalisti si metteranno in gioco dando il meglio di loro per conquistare l'accesso in semifinale. Quest'anno il pubblico da casa potrà dare il proprio contributo votando il proprio cantante o cantautore sul sito fornacincanto.com. Il più votato vincerà lo speciale premio della giuria popolare. Le audizioni di Fornaci in Canto andranno in onda su Noi TV ogni domenica sera alle ore 21 su Rete Versilia News il lunedì sempre alle ore 21. Ritorno al passato, così possiamo definirlo perché a Gallicano si semina e si raccoglie la canapa. Dopo decenni di totale abbandono, chi lo avrebbe mai detto che si potesse osservare ancora un campo seminato a canapa? Nel passato i contadini dedicavano uno spazio nella loro proprietà alla semina di questa pianta. Addirittura quasi in ogni paese si trova una località che porta il nome di canipale, chiaro riferimento alla sua coltivazione. Quella seminata a Gallicano dall'Associazione Cittadini Virtuosi per volere dell'amministrazione comunale è ovviamente canapa stativa, quella adatta per tessuti e alimenti e non la canapa ricca di THC e quindi ad effetto psicoattivo anche se le foglie si somigliano. La coltivazione si trova a due passi dall'area che l'amministrazione ha dedicato agli orti sociali, ma cerchiamo di capire lo scopo dell'iniziativa dalle parole del sindaco Saisi. Questa iniziativa nasce lo scorso anno quando abbiamo fatto un convegno a Gallicano proprio sulla canapa per capire i mille usi della canapa stessa e da lì è nata la curiosità di riportare a Gallicano una coltivazione che a Gallicano c'è sempre stata, quella della canapa un tempo veniva utilizzata per fini tessili e oggi gli usi sono molteplici e quindi ci stiamo studiando sopra per capire quelle che sono le prospettive. Anche se può sembrare strano, la canapa in passato ha avuto un ruolo importante, oltre ai tessuti e l'utilizzo in cucina e cosmesi, pensate che la Costituzione americana è stata scritta proprio su un foglio di canapa. Nel passato l'Italia è stato il secondo paese al mondo come produzione e chissà che da questa iniziativa gallicanese non si creano neanche nuovi posti di lavoro. L'obiettivo ovviamente per la nostra amministrazione è proprio quello, quest'anno è un esperimento, staremo a vedere che tipo di produzioni verranno fuori, vogliamo provare quella degli oli essenziali, quella della distillazione ma anche quella della produzione della farina di canapa. Sabato verrà inaugurata a Gorfigliano la sede della filarmonica Giacomo Puccini, completamente ristrutturata dopo il sisma del 21 giugno 2013 che colpì questa zona dell'Alta Garfagnana. Nell'occasione sarà inaugurato anche il nuovo impianto sportivo polivalente che si trova nelle Adiacenze. E ora torniamo a Viereggio per una mostra dedicata al Novecento. La mostra Il secolo breve, tessere di Novecento, presentata stamani alla stampa presso il Centro Matteucci per l'arte moderna di Viereggio, riprende il titolo di un famoso saggio e propone 50 opere, preziose testimonianze, dell'arte pittorica del Novecento. Dal 7 luglio al 5 novembre prossimo l'esposizione, curata da Susanna Ragioniere, raccoglie opere di cui una buona parte, per la prima volta esposte al pubblico e provenienti da collezioni private. Naturalmente, come anticipato dal nome della mostra, che si inserisce tra gli eventi culturali più interessanti dell'estate 2017, il riferimento è all'omonimo e celebre saggio di Eric Hobbsbone, pubblicato nel 1994. Il sottotitolo della mostra, tessere di Novecento, invece, allude alle testimonianze di grande rilievo del secolo scorso, fortemente rappresentative di un periodo artistico tra i più fecondi e allo stesso tempo tumultuosi dell'arte italiana. La mostra del Centro Matteucci parte un po' prima, cioè parte dall'inizio del Novecento e arriva agli anni Sessanta, alla fine degli anni Sessanta, concludendosi con quella che sotto certi aspetti chiamerei anche una piccola provocazione, vale a dire due quadri di De Chirico, un quadro, un autoritratto in costume settecentesco, l'altro invece una neometafisica, vale a dire quadri negli anni Sessanta estremamente controcorrente, che sono stati però alla base della generazione del postmoderno. E adesso ascoltiamo l'editoriale di Sergio Talenti, l'Ancora. Il Parco Melvin Jones, donato alcuni anni fa dalla Rotary Club e al Comune di Viareggio, diventa puntualmente una discarica a cielo aperto dopo ogni rientro dei turisti di fine settimana e anche cloaca qualche volta per qualche notambolo che ha perso le chiavi di casa. È situato nel cuore del quartiere Marco Polo, che poi è porta d'ingresso della città di Viareggio, ed era dedicato originariamente ai nonni e ai bambini. Situazioni di questo tipo si registrano comunque anche in altre zone della città. Non è una bella vista, recentemente sono stati conteggiati oltre 50 sacchetti di immondizia, rotti, sparsi in poco a e là, trafugati da gabbiani, topi e qualche cane d'andaggio. La Polizia Municipale di Viareggio ha voluto monitorare la situazione trovandola seria. E d'estate, con il caldo che fa, le numerose abitazioni devono chiudere le finestre, evidentemente per il brutto odore. La sea ambiente interviene quando si chiama. Si pone dunque un'emergenza istituzionale che pone in primo piano la salute pubblica e il decoro urbano, ma anche una domanda sull'idea stessa di turismo, che in un mercato altamente competitivo deve necessariamente integrarsi con l'ambiente. Questo ambiente a Viareggio è la unica, grande, splendida città liberty d'Europa e non si può offrire in queste condizioni. Chiudiamo qui la prima parte del Tg, una pausa e poi la pagina sportiva.